L'India Alfa Papa Sono le 18.45 del 27 ottobre 1962 Temperatura 9 gradi, pista 36 Quello che state ascoltando è un documento unico è la registrazione originale, inedita delle comunicazioni via radio tra la torre di controllo di Linate e India Alfa Papa, nome in codice dell'aereo che stava portando a Milano il presidente dell'ENI Enrico Mattei Nonostante il maltempo la voce del pilota Ernerio Bertuzzi sembra tranquilla Il pilota azione il comando per l'apertura del carrello India Alfa Papa non risponde più, l'aereo è precipitato nella campagna di Bascapè a pochi chilometri dall'aeroporto Muoiono il presidente dell'ENI Enrico Mattei il giornalista inglese William McCall il pilota Ernerio Bertuzzi Ma cosa è successo veramente a quell'aereo? Si è trattato di un incidente o di un sabotaggio? La morte di Mattei è stata il primo mistero italiano Noi l'abbiamo raccontato a Mixer e ve lo proponiamo India Alfa Papa, avvenate, avvenuto la terrazza di un'attività di 1.300 metri E ha miglioramento di un'attività, passo Eventualmente India Alfa Papa, avvenate e ricevete Viro inbound, mi porterò a 2.000 piedi sul beacon Ha ricevuto l'India Alfa Papa Tra quanto tempo va a vedere la terrazza, passo Tra un minuto, un minuto e mezzo Contro di noi si è sollevato una polemica terribile E abbiamo seguitato a lavorare, a rafforzarsi Cercando di non farci colpire 27 ottobre 1962 Caduto bi-reattore ingegner Mattei Mattei era sull'aereo I frammenti sparsi in un largo raggio Fanno pensare che l'apparecchio sia esploso La sciagura non ha avuto testimoni oculari La parte anteriore dell'aereo è visibile nella buca profonda oltre 4 metri Il 28 ottobre tutti i quotidiani aprono con la morte di Mattei Adesso che è morto, chi l'aveva combattuto lo elogia I pochi che lo amavano lo mitizzano Tutti riconoscono che sarà difficilmente sostituibile e che è morto povero Non era comunista, scrive il New York Times Sebbene avesse sviluppato durante gli ultimi anni Una forte deviazione anti-americana e anti-Nato Si avanza l'ipotesi che sia stato assassinato Una lotta terribile Senza esclusione di colpi Io ho visto insieme d'altra parte società inglesi, americane, olandesi, francesi, belgi Tutti uniti contro di noi In un rapporto segreto del National Security Council del 1961 si legge La politica petrolifera italiana, dominata da Mattei, ha sferrato attacchi alle maggiori compagnie petrolifere occidentali e alla loro struttura internazionale dei prezzi Con un impatto distruttivo nei rapporti tra le compagnie stesse e i governi del Medio Oriente e ovunque Le tattiche di Mattei hanno inoltre alimentato, specialmente in Africa, sentimenti anti-colonialisti Nel documento sembrano esserci tutti gli elementi che via via svilupperemo nel corso di questa inchiesta La politica del petrolio, i servizi segreti, gli interessi economici delle multinazionali del petrolio Il ruolo dell'Italia nello scenario internazionale del primo dopoguerra Il colonialismo e la realtà africana emergente Ma intanto, chi era la vittima? Enrico Mattei Enrico Mattei nasce da Qualagna, un paese delle Marche, il 29 aprile del 1906 A 14 anni Enrico Mattei lascia la scuola per fare l'operaio 10 ore di lavoro al giorno per una paga misera Poi trova un posto migliore nella conceria Fiore Dove lavorano 150 operai, a 23 anni è diventato direttore Ma è solo l'inizio Adesso mira più in alto, si trasferisce a Milano A metà degli anni 30 in un industriale di successo Per le sue capacità organizzative viene nominato comandante delle formazioni partigiane cattoliche Qualche giorno dopo la liberazione il comandante partigiano Enrico Mattei L'8 maggio del 45 sfila nelle strade di Milano A fianco del generale Cadorna, di Luigi Longo, di Ferruccio Parri, di Giovanni Battista Stucchi e Mario Argenton Qualche giorno dopo la fine della guerra Mattei era stato nominato commissario straordinario dell'Agip Dalla Commissione Centrale Economica del Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia L'incarico era quello di liquidare l'azienda di Stato e cedere tutto ai privati Prima di liquidare Mattei cercò di capire che cosa gli avevano affidato Gli ordini era abituato a darli, non a eseguirli Mattei a soli 39 anni è diventato oramai già un uomo scomodo Un uomo contro Un uomo che mette perfino in discussione le clausole del trattato di pace con gli Stati Uniti Che prevedono dei pesanti vincoli per noi nella fase di ricostruzione Non vuole svendere le risorse nazionali Vorrebbe trovare dei privati con i quali costruire il futuro energetico dell'Italia Ma non li trova perché non ci sono e deve fare da solo E questo lo espone a un grave rischio Mattei non ha dubbi Per la ricostruzione le fonti energetiche sono strategiche Richiama i tecnici dell'agip fascista e riprende ricerche e perforazioni Agli attacchi continui di Don Sturzo Che sostiene gli interessi della galfa americana Mattei risponde costruendo il metanodotto Per superare gli ostacoli burocratici Trasgredisce a 8.000 ordinanze Lavorando di notte Quando mancano i soldi garantisce i finanziamenti con le sue proprietà Lo scontro sull'agip è politico Verte sulla legittimità dell'intervento pubblico Nei settori produttivi Sul primato del libero mercato e dell'iniziativa privata Tutta la grande finanza italiana guidata da Giorgio Valerio Presidente della Edison Il più importante monopolio industriale italiano È contro di lui Alleata con l'industria petrolifera americana Sostenuta dalla politica energetica del Dipartimento di Stato Ma quando arriviamo al primo pozzo produttivo di caviaga E il metano uscì fluente Veramente rivelando una grande ricchezza al paese Nello spazio di circa un mese Furono presentate circa 300 domande di concessione Che coprivano tre volte tutta la Valle Padale E fu anche allora come una leggendaria Ripetendo proprio una leggendaria corsa all'oro Cioè una corsa per l'accaparamento delle concessioni alla Valle Padale Aveva una grande idea Che non si poteva sviluppare l'economia italiana fuori dall'autarchia Senza acquisire un minimo di indipendenza internazionale in materia energetica E questo fu il suo crucio Vanoni lo sostenne molto Da lì nacque l'idea dell'Eni Che non fu così semplice Perché Ivan Matteo Lombardo Lo stesso Rodolfo Morandi Furono contrari a quest'idea che sembrava un po' avveniristica De Gasperi era perplesso Suppressione delle grandi multinazionali E anche del governo americano Ma alla fine quando Vanoni convince con Mattei De Gasperi Andare a corte maggiore A fare la visita al primo pozzo di petrolio Anche De Gasperi si convince E nasce Lenin La sigla del cane a sei zampe dunque sta per nascere E le sue fondamenta come abbiamo sentito dal senatore Granelli Si basano su una semplice intuizione Ma quanto quest'idea per quanto semplice Sia dirompente per l'assetto politico ed economico internazionale Forse non è chiaro a molti E invece chiarissimo a lui, a Mattei Che decide di andare avanti ad ogni costo E lascia un altro indizio Per la nostra ipotesi investigative Mattei non perde occasione per ripetere Per fare una struttura portante della ricostruzione Dello sviluppo e dell'occupazione Le perforazioni riprese sin dal 45 continuano Dai 14.000 metri del 49 si passa ai 130.000 del 52 La rete del metanodotto che dal 48 collega il pozzo di Caviaga Alle industrie bergamasche Si estende a tutto il nord Fornendo a tutti energia a buon mercato Anche il numero dei pozzi cresce Nel 1952 quelli attivi diventano 6 Nel 1953 dopo un dibattito durissimo Il Parlamento approva la legge costitutiva dell'Eni Che assegna l'esclusiva della ricerca Nella Valpadana al nuovo ente Mattei grazie a Vanoni Ha ottenuto anche l'appoggio di De Gasperi Che in quell'occasione fu fondamentale Intanto un altro compagno di lotta di Mattei Il partigiano Giovanni Marcora Detto Albertino Ha fondato la base La corrente che raccoglie parte della sinistra Demo Cristiano Nel 1956 nel panorama conformista Del giornalismo italiano Nasce un nuovo quotidiano Il giorno voluto e finanziato Segretamente da Mattei Che ne affida la direzione a un grande giornalista Gaetano Baldacci Per costruire una grande impresa E' necessario il consenso Mattei lo sa e non vuole lasciare nulla di intentato Mattei voleva un quotidiano Per essere alla pari Per pari dignità diciamo Con tutte le altre forze economiche in campo Mentre l'Eni diversifica innova Costruendo la prima centrale nucleare Gli attacchi si moltiplicano Mattei corrompe Paga i partiti Compra i suoi nemici Si dicono gli avversari E' vero Ma nessuno parla del flusso di denaro Che in quegli anni La grande finanza E i petrolieri americani Elargiscono con generosità Per le campagne contro Mattei Su richiesta di Lapira Mattei salva dalla crisi Il Pignone Una sofisticata azienda meccanica Da lavoro ai cantieri Per costruire la flotta Agip E batte la concorrenza A volendo il deposito Sulle bombele di Agip Gas Nel nuovo stabilimento Petrochimico di Ravenna Produce concimi azotati A prezzi inferiori A quelli del monopolio Della Montecatini Crea una modernissima Rete di distribuzione Per la benzina Supercorte Maggior I prezzi Sono i più bassi D'Europa Nel mezzogiorno Sostiene la linea Per il riscatto del sud Dalle croniche condizioni Di arretratezza Con lo sviluppo Cresce l'occupazione E i voti alla DC Noi siamo dei poveri Abbiamo bisogno Abbiamo bisogno di lavorare E non possiamo più andare all'estero Come dei poveri emigranti Che non hanno Nessun'altra forza Che le proprie braccia Noi vogliamo andare Anche noi come imprenditori Con l'assistenza tecnica E con tutto quello Che un paese moderno Come il nostro Oggi può dare Le parole di Mattei Che abbiamo appena ascoltato Sono un incentivo Per superare Le difficoltà La difficile Fase della ricostruzione Per arrivare vittoriosi Al traguardo del benessere Per quest'uomo Simpatico Dall'aria accattivante Dai toni gentili Dall'elochio affabile E il successo popolare Ma Mattei non è un politico E non ha nessuna intenzione Di fermarsi ai bagni di folla Il suo obiettivo È molto più ambizioso E travalica i confini nazionali Adesso Mattei Va all'estero Da grandi imprenditori In Italia c'è solo Metano E il petroliere Senza petrolio Stringe accordi Con i paesi Ex coloniali Che vogliono affrancarsi Dal dominio Del cartello Del petrolio La sua politica È sostenuta Dalla sinistra Di C E dalla corrente Di base Il presidente Gronchi E Fanfani Sono tra i suoi Referenti politici Il primo accordo Importante Lo firma Con lo Shah in Iran Poi va in Marocco Libia Sudan Tunisia Nigeria Ghana Egitto Offre a tutti condizioni Senza precedenti Nella storia del petrolio Inoltre Si occupa Della formazione Dei tecnici Che arrivano a San Donato Milanese Per imparare A gestire gli impianti Che l'Eni Sta costruendo In quei paesi Interest Tecnici Cicmi I 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 Grazie a tutti. 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 Enrico Mattei. Grazie a tutti. 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 Ronchi. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti.